Dal punto di vista ambientale il momento più difficile, clima di contestazione in realtà nelle ultime ore si è andati decisamente oltre. Squadra tuttavia concentrata, decisa a non farsi condizionare e soprattutto a confermare i progressi manifestati sotto il profilo dell'equilibrio nell'ultimo vittorioso match con la Lucchese. Ora la vice capolista Torres fuori casa, match in diretta e in chiaro su Reteotto con ampio pregara a partire dalle ore 13. Buccaro. Come gruppo, come staff e come giocatori ci estraniamo da tutto quello che è il contorno in questo momento. Pensiamo al campo, a fare il meglio possibile negli allenamenti e in partita. Quindi sappiamo, ascoltiamo qualcosa, però non ci deve riguardare, non ci interessa. Dobbiamo pensare a fare il nostro, a farlo nel miglior modo possibile. Poi le altre situazioni, come ho detto io nella conferenza pregara la scorsa settimana, mi auguro che almeno i tifosi durante e fino al novantesimo possano aiutare questi ragazzi. Poi sono liberi di esprimere il proprio parere, anche se è quello di contestare. Allarme rientrato per Davide Merola, torna a disposizione a Cornero che ha saltato le ultime sette partite causa infortunio. Assenti Tuniov per squalifica, Vergani sulla via comunque del totale recupero e Sasanelli messo KO dall'influenza. Buccaro darà continuità all'undici schierato con la Lucchese. Un solo cambio per altro obbligato, Franchini per Tuniov fermato, come detto dal giudice sportivo. Probabile undici, Plizzari tre pali in difesa Floriani, Brosco di Pasquale e Milani. A centrocampo Aloy, Dagasso e Franchini. Davanti Merola e Cangiano a supporto di Cuppone. La Torres vicecapolista e bellissima rivelazione della campionato sarà priva di Sanat del Marsicano Fabriani, ex Notaresco e Di Kujabi. In compenso dalle rispettive squadifiche rientrano Ida, Zecca, ex Teramo e Diachite. Recuperato Fischnaller, 10 gol, partirà dalla panchina. Sistema di gioco 3-4-1-2. Zaccagno tre pali in difesa, Ida, Antonelli e Dametto. Sulle fasce Zecca e Zambataro. Chester, Giorico, tandem di Mediani. Tra le linee la qualità di Mastino, in attacco, Scotto e Ruocco. I Sardi si sono messi alle spalle il periodo critico. 4 K.O., di cui tre consecutivi, in cinque gare. Nelle ultime tre partite altrettanti successi contro Lucchese, Pontedera fuori, Perugia in casa. Squadra organizzata, fisica, esperta, aggressiva, ma anche di buonissima qualità. Non solo Mastino, ma anche Fischnaller e il talentuoso Francesco Ruocco, classe 2001, otto reti in campionato. E poi l'esuberanza fisica, unita alla velocità di Capitano Scotto, che svaria su tutto il fronte offensivo. Test dunque assolutamente probante. Servirà il miglior pescara. Curiosità, i due tecnici, Alfonso Greco e Giovanni Buccaro, hanno giocato insieme un anno nella spalla in C1, stagione 1996-97. Greco era un centrocampista, cresciuto nel bivaio della Lazio, con diverse presenze anche in A nel campionato 88-89. È un po' la sorpresa a livello di classifica, se non avesse avuto, non dico le ultime tre che le hanno vinte tutte e tre, ma antecedente alle ultime tre che hanno vinto queste tre sconfitte di fila, potevano giocarsi l'A-B col Cesena. È una squadra che ha una grande appartenenza della maglia, c'ha diversi sardi lì, qualcuno gioca da diversi anni. È una squadra che sta facendo benissimo, voglio fare anche i complimenti all'allenatore, perché è uno che si è fatto da solo, dalla gavetta, non ha avuto aiuti di nessun modo e sta facendo un gran campionato. Adesso bisogna cambiare un po' marcia e vedere di fare meglio in queste partite che ci rimangono fino alla fine del campionato. Sono due i precedenti a Sassari, il primo quasi 22 anni fa, 5 maggio 2002, il Pescara di Ivo Iaconi la sblocca con Massimiliano Fanesi al novantesimo. Il pareggio della Torres, la firma di Rudi Nicoletto Terzino, che nel campionato successivo centrerà la promozione in B proprio con la maglia del Pescara. Appunto nelle immagini il successo Biancazzurro 5-3 conseguito il 30 marzo 2003. Pomeriggio da ricordare per Federico Giampaolo, autore di una tripletta, all'undicesimo il primo gol di testa su angolo di Andrea Cecchini. La Torres reagisce non benissimo, Santarelli anticipato da Udassi fa da pareggia a porta vuota. Nuovo sorpasso Pescara al 35esimo, guizzo di Giampaolo che anticipa il suo dirimpettaio e scavalca di testa Torre Pinna. Nella ripresa a Biosprit dei Biecazzurri di Ivo Iaconi, tris sul rigore di Andrea Cecchini. La Torres però si aggrappa al mestiere di Udassi che trae in inganno il direttore di gara. Nessun fallo dell'ex Nicoletto, autentico abbaglio, frau sul dischetto, Santarelli intuisce ma non basta. 2-3, la gara torna in bilico, la Torres ci crede ma in tre minuti compromette tutto. Clamoroso errore di Zitolo, APA ringrazia e rifinisce per Federico Giampaolo. 2-4, subito dopo, pocherissimo di Ottavio Palladini. Nel finale espulso Antonaccio, secondo giallo, Pescara in 10 e gol di Panetto su angolo di Frau. Finisce così 5-3. Quindi Amplein, altre cinque vittorie in altrettante gare e promozione in B dopo i memorabili spareggi contro San Benedettese e Martina Franca.